20 Miglia è stata scelta per uno spot pubblicitario per cui chiaramente appena siamo stati contattati come ufficio noi siamo stati assolutamente lieti e onorati di ospitare non soltanto John Travolta ma anche Diletta Leotta per questo tra l'altro appena John Travolta ha prodato qui a 20 Miglia non appena io e Flavio Di Muro ci siamo avvicinati a lui per accoglierlo ha esclamato proprio 20 Miglia is a beautiful city quindi per noi questo è un motivo di grandissimo orgoglio e spero anche per tutti i 20 Migliesi. Ci scusiamo con i cittadini i 20 Migliesi per non aver pubblicizzato l'arrivo dei due attori però si è trattata di un'iniziativa privata per cui il teatro è stato concesso in seguito a una richiesta assolutamente formale secondo il nostro regolamento. Questa è la prova che anche il teatro di 20 Miglia è un luogo per cui si possono girare varie iniziative e svolgere varie iniziative anche in carattere internazionale.